Questo è il nuovo forno che abbiamo creato per questa edizione della Fira di Milano. È un forno dedicato alla pizza in teglia, ma anche alla piccola pasticceria, alla panificazione e alla gastronomia. Abbiamo quindi rivisto le dimensioni delle camere di cottura per le teglie, la versione a due teglie oppure la versione a tre teglie che è questo. Le camere possono essere fatte in due altezze, una camera da 18 cm che è questa e una camera più alta da 25 cm che è quest'altra per i prodotti lievitati. Si può avere sia con il piano in lamiera bugnata, sia col piano in refrattario che è dedicato più che altro alla cottura delle pizze. La costruzione è totalmente in acciaio inox, tutto l'impianto di illuminazione a 12V con lampadine dicroiche. Un'altra novità che presentiamo in questo forno e che però verrà poi portata anche sulle altre attrezzature è il controllo a touchscreen. Molto semplice nell'utilizzo in quanto tutte le funzioni principali sono comunque accessibili con un tasto. Tutti i comandi sono estraibili, cioè possono essere traslati in avanti per eventuali riparazioni. I forni sono sovrapponibili, quindi sono tutti i forni monocamera che possono essere impirati uno sull'altro. Sono dotati di una capa di aspirazione con un ventilatore a 5 velocità e di una vaporiera che permette appunto di creare e di mettere nella camera di cottura il vapore. Questo proprio per la cottura più che altro del pane e dei prodotti da pasticceria. Questo invece è il nostro forno angolare. L'abbiamo riproposto cambiando le dimensioni della camera di cottura, quindi abbiamo creato un modello più piccolo rispetto a quello che già abbiamo in produzione. Questo fa un 6 pizze. Anche questo forno può essere proposto in due versioni. Una versione più semplificata, sempre digitale ma con dei controlli più semplici. O in una versione più completa con la scheda touchscreen che abbiamo visto sul forno precedente. O in una versione più completa con la scheda touchscreen che abbiamo visto sul forno precedente.